Eternals è finalmente uscito nelle sale cinematografiche. Questo film credo possa interessare di più agli amanti del cinema che non agli amanti delle saghe Marvel. Wabalaba dab dab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica Marvel. Oggi parliamo di Eternals, un film che comunque fa parte del Marvel Cinematic Universe, per come lo conosciamo, ma che può essere visto tranquillamente come un film indipendente da esso. Anzi, forse sarebbe anche meglio se ci mettiamo in testa che questo film sarebbe meglio vederlo come se fosse un film a sé. Adesso vi spiego perché. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno più di 7000 anni e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo film e della mia opinione. Sempre qua in descrizione trovate anche tutti gli altri miei social a cui vi potete iscrivere per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. È bello come quest'anno siano usciti, contemporaneamente quasi, il film su Venom 2, in realtà il film su Carnage, e il film sull'anti-Venom, nel senso che Eternals è tutto ciò che non è Venom, ovvero è un film lungo, due ore e venti contro un'ora e mezza, è un film dove quello che viene raccontato è tantissima roba e dove la trama segue un filologico di fabula e intreccio perfetti, mentre vabbè di là manca la parte centrale e la parte iniziale, ma non fa niente. E un'altra cosa che lo farà diventare l'anti-Venom è sicuramente il fatto che a livello di soldini ho una grande paura che guadagnerà di più Venom che non Eternals, o quantomeno a livello di critica del pubblico generalista piacerà di più Venom che non Eternals. È vero, Eternals è un film Marvel, parla di personaggi della Marvel, ma proprio perché è stato presentato in questo modo la gente rischia di rimanere delusa, specie la gente che è in astinenza da Avengers e spera di andare al cinema a vedere un film dove ci sono supereroi con i mantelloni che si danno botte d'orbi. E c'è anche questo nel film, però ovviamente è tutto girato, tutto presentato con una delicatezza senza pari, ma che potrebbe appunto far perdere questo senso di cinecomics, ecco, perché in realtà Eternals, io non lo giudico un cinecomics, per quanto non sia una cosa negativa essere un cinecomics, assolutamente, però nel senso non è un film di supereroi in senso stretto, ma lo vedo di più come un film fantasy, un film epico in cui ci viene raccontata la storia del mondo. Ecco, io a Chloe Zhao darei proprio in mano la regia, gli darei in mano la Bibbia, gli direi ok, facci un film, facciamo il reboot della più grande storia mai raccontata, che è un film sulla Bibbia degli anni 30, se non sbaglio. Oppure gli darei il Simmarillion e le direi Toh, raccontaci tutta l'origine di Arda e tutta l'origine della Terra di Mezzo. Ecco, Chloe Zhao ha fatto questa cosa con le origini della Terra, secondo Jack Kirby, che è l'autore, il creatore di Eternals, quindi secondo l'universo Marvel, la Terra si è creata e si è evoluta in questo modo. Noi abbiamo visto non un film Marvel, non una nuova saga di supereroi, ma abbiamo visto la Bibbia della Marvel, abbiamo visto il Simmarillion della Marvel. E per questo io sono entusiasta, sono rimasto a bocca aperta. Ho trovato in quel poco che, nelle mie poche reminescenze di storia, ha un sacco di riferimenti e mi è piaciuto come abbiano fatto in modo che, secondo sempre questo filone narrativo, tutto quello che per noi è storia, un po' come è successo in Thor, è successo davvero ma è stato un po' riraccontato, è stato un po' modificato dagli Eterni stessi in questo caso. Scopriamo come la Dea Atena non è altro che Tena, una degli Eterni, che è stata raccontata in questo modo dagli antichi greci. Lo stesso Icaris è stato riraccontato come Icarus in Antichità. Perché? Perché questi Eterni sono ben più antichi della storia dell'uomo. Tant'è che il tutto inizia nel 5000 a.C. in Mesopotamia, ragazzi. Quanto tempo è che non sentivate la parola Mesopotamia? Se andate a scuola magari la sentite, ma cazzo, se siete adulti, Mesopotamia non si sente tanto spesso. Poi abbiamo visto Babilonia, una splendida città riportata alla vita in questa pellicola e poi mano a mano abbiamo visto il progredire, diciamo, dell'evoluzione umana. Vediamo come gli Eterni, soprattutto Fastos, voglia contribuire a dei saltini evolutivi nella storia umana, ma gli venga impedito perché, per esempio, lui durante il regno di Babilonia voleva già proporre il motore a vapore. Gli hanno detto no, è un pochino presto. È tutto molto figo questa cosa, come si intreccia perfettamente nella storia dell'uomo tutto questo. Devo dire che quello che io mi sono gustato di questo film me lo sono gustato proprio perché io di questi personaggi a livello fumettistico non conosco una sega, ragazzi, non so niente. Vedete tutto questo? Allora, quello che io ho letto degli Eterni, niente, non c'è niente degli Eterni, non li conoscevo, ok? Quindi io mi sono gustato il film così, nella mia più totale tabula rasa, nella mia più totale tavola bianca. Quindi io non lo so, purtroppo a me piace di solito fare le differenze tra fumetto e film, ma ovviamente qui non conoscendole non mi sembra proprio il caso di farle, né tantomeno di andare a leggere un fumetto adesso per dirvi, nel fumetto che ho letto ieri, non mi sembra il caso. Quindi io mi sono andato a vedere il film e me lo sono gustato. Quindi non so dirvi chi nei fumetti era un uomo e qui una donna, non so dirvi chi era un bambino, qua una bambina, cioè l'ho percepito da quello che ho letto sui giornali, ma è inutile che andavo a scovare notizie di cui comunque al fine del godermi il film non me ne fregava niente. Quindi non vi posso dire, ah sono rimasto deluso perché il personaggio che amo non è come nei fumetti. Non li conosco, non li conosco assolutamente. Per quello che ho visto la pellicola mi è piaciuta molto molto molto, ma ho avuto come anche una costante, non lo so, una costante cosa qua nello stomaco che mi faceva dire sì, è bello, però secondo me inizio a capire perché ha avuto uno dei rating più bassi tra i film Marvel dopo Thor The Dark World, perché io credo proprio che questa sua epicità, questo suo essere fondamentalmente un racconto di storia rivisitato, possa averlo penalizzato proprio alla luce del fatto che viene presentato a tutti gli effetti come uno un film Marvel e due come il primo grosso gruppo di supereroi, passatemi il termine, che ci mostrano dopo la fine di Endgame ed è tutto un altro sapore, quindi se uno va con le aspettative di avere anche solo lontanamente lo stesso sapore nostalgico che ha avuto guardando Endgame, che era nostalgico a sua volta tra l'altro con tutta la storia dei Marvel Studios, qua rimarrà deluso. Io spero vivamente che però le recensioni delle persone non siano basate sulla propria delusione ma su quello che vanno a vedere ma sappiamo che non è così. Metteteci anche ciliegina su questa torta di merda che a volte sa essere il pubblico generalista, scusate, è vero, e il fatto che qualunque cosa tu gli proponi in questo momento fino a dicembre ti possono dire, bello eh, ma il trailer di Spider-Man? Ma Spider-Man No Way Home? Cioè questo, punto, quindi a me dispiace tanto per Eternals, forse dovevano piazzarlo dopo Spider-Man perché se no la gente era tutta, sì, Eternals, ma non c'è neanche il trailer di Spider-Man nei titoli di coda scusate lo spoiler, non c'è un trailer di Spider-Man nei titoli di coda, sappiatelo è molto indipendente come film, eh? Tanti dicono, eh, sembra un film di C-Comics ma perché? È un film bello, cioè può essere un film bello ed epico anche senza essere un film di C-Comics an-an-zi, i film di C sono, e ovviamente con film di C si intendono quelli di Snyder quelli molto epici, quelli molto seri, che si prendono molto sul serio, ecco, quelli sono i film di Snyder e non sono certo privi di difetti, non che questo lo sia, ecco, io non vi posso dare un giudizio tecnico perché solitamente io non riesco a capire la regia a una prima visione capisco quando è bella, soprattutto capisco quando è una merda ma a una prima visione io mi godo il viaggio, mi godo lo spettacolo non ho l'occhio tecnico per capirlo subito al volo se succede è perché mi sto annoiando dato che sono stato comunque trasportato da questa magica da questa storia epica è già positivo però ecco, un'altra cosa, parlando di a una prima visione non noto la regia, dovrei vederla una seconda volta una cosa, secondo me, negativa di un film così epico è che io non lo riguarderei poi, per carità, io penso che a un cineasta non gliene freghi un cazzo perché guardano gli incassi del cinema e non quelli dei blockbuster che vanno semmai ad alimentare gli incassi però, ecco, se un film appunto un po' più leggero ma anche solo endgame che dura pure di più io un endgame lo riguarderei magari non tutto di filato magari mentre faccio cose lo tengo in sottofondo insomma, Eternal non so se lo riguarderei se lo dovessi riguardare sarebbe proprio per proporre una serata Eternas con un sacco di persone che non l'hanno visto e guardarlo con loro ma ecco, non è il film che riguarderei più e più volte proprio per uno, per la durata e due, perché comunque non è uno di quei film che comunque puoi rivedere alla leggera dovresti sempre metterci tutta l'attenzione possibile per seguire la storia non perché sia complicata ma proprio perché è fitta di argomenti è interessante non è quel filmone dove si danno le botte da orbi ma appunto, come ho detto all'inizio le botte da orbi ci sono i combattimenti sono spettacolari considerato anche che anche dopo le dichiarazioni di Angelina Jolie che lei non aveva idea delle armi che avrebbe avuto quindi ha combattuto un po' così alla cieca le armi gliel'hanno costruite dopo è stato molto bello sapere come hanno gestito tutte le scene di combattimento una cosa fantastica che appunto come ho detto all'inizio è l'anti-venom tutti i combattimenti sono perfettamente centrati nell'inquadratura che sembra una cosa scontata ma in altri film non è così nonostante io fossi in prima fila perché vabbè purtroppo ho scoperto una cosa di un cinema che le luci del corridoio non venivano spente mi davano un fastidio assurdo quindi non mi sono tanto goduto la prima parte di questo film poi sono andato in prima fila per non avere stecazzo di luci negli occhi e sono andato in prima fila nonostante io fossi in prima fila non mi sono perso nulla era tutto perfettamente davanti ai miei occhi non ci sono stati combattimenti fuori campo per risparmiare sulla CGI anche perché è una produzione Marvel e anche quando ci sono le scene buie perché comunque ha una fotografia abbastanza fredda soprattutto al tempo presente si alternano molto i flashback della loro storia con i momenti presenti nei momenti presenti la fotografia è molto fredda nei momenti passati quindi Mesopotamia Babilonia le scene del deserto lì c'è una fotografia ovviamente per ovvie ragioni molto calda nelle scene invece presenti dove la fotografia è molto fredda non è una scelta di ok faccio le scene buie così non si notano i difetti di CGI no no è una scelta stilistica precisa tant'è che nonostante siano buie ti dà questo effetto è una scena girata all'alba non è una scena girata di notte cioè quindi è una fotografia fredda ma nonostante sia buia non percepisci questa cupezza la percepisci come se stesse albeggiando è un'altra cosa che mi è piaciuta molto che sicuramente è parte della firma della regista quindi vi consiglio di andare a vedere Eternals sì sicuramente tenete presente quello che vi ho detto non fatevi aspettative della serie che è il nuovo gruppo di Avengers piuttosto che assolutamente no andatelo a vedere come se fosse una nuova saga che parte ora che avrà sicuramente una sua trilogia potrebbe starci che uno di questi personaggi finirà in un film corale magari con i nuovi Avengers non lo so non mi interessa non pensate di vedere un film sugli Avengers pensate di vedere una nuova saga epica che ci racconta racconta in chiave fantasy la storia di come si è formata l'umanità su questa terra adesso se invece il film lo avete già visto faccio giusto qualche minuto di spoiler per spiegare due cosette spiegare parlare con voi di qualcosa che ci domandavamo prima di vedere la pellicola e che ci è stata ampliamente spiegata durante la visione quindi spoiler tra 3 2 1 una delle cose che ci chiedevamo quando abbiamo visto il trailer e che gli Eterni stessi ci facevano percepire quando abbiamo visto il trailer era come mai non sono intervenuti con la battaglia contro Thanos che comunque è una roba super epica dato che c'erano di mezzo le gemme dell'infinito non era pizze fichi ma in generale perché non siete intervenuti con le guerre mondiali con queste cose qua e nel trailer veniva semplicemente detto e c'è stato detto da qualcuno di di non interferire con tutte le cose che non riguardassero i devianti e poi vedi sta figura enorme che è questo celestiale che li comanda e dici sì vabbè ok ma cioè sembrava una cosa molto egoistica molto paracula no? questa roba per infilarsi nella continuity del mondo Marvel ecco questa cosa fortunatamente nel film sta paraculata non si percepisce è tutto fluido è tutto spiegato perfettamente nel senso che si percepisce la grandezza di quello che succede in questo film nonostante non ci siano interazioni con il popolo non ci siano nel tempo presente ovviamente non ci siano interazioni di minaccia a livello globale cioè nonostante non le mostrino queste cose si percepisce che il mondo sta per finire ed è una cosa fottutamente più grave imminente pericolosa di dei chitauri di ultron di thanos cioè si capisce proprio che è fuori scala e viene spiegato molto meglio nel film che non quanto ho detto nel trailer fondamentalmente loro non hanno mai agito su queste cose perché innanzitutto non sono umani come ho detto all'inizio è come rileggere la bibbia in chiave fantasy quindi immaginate che questo celestiale che ha creato gli eterni non sia altro che Dio che ha creato gli angeli quindi fondamentalmente immaginate di percepire questi eterni come angeli più che come supereroi per semplicemente perché come gli angeli non hanno non sono umani e non hanno il libero arbitrio la loro missione è quella che gli ha dato il suo celestiale così come la missione degli angeli è quella che gli ha dato il che gli ha dato Dio e il fulcro di questa pellicola è in un certo senso anche il libero arbitrio che gli eterni non possono avere o che comunque potrebbero avere ma vogliono sottostare alle regole del celestiale che li ha mandati c'è questo gruppo che a un certo punto si divide proprio per questo Ajax stessa che è Salma Hayek dice loro andate vivete la vostra vita perché lei stessa percepiva che la missione che stavano compiendo li stava logorando e quindi dice ok andate a vivere tra la gente andate ad amare l'umanità che state solo assaggiando stando vicini agli umani ma senza mescolarvi è tutto molto incentrato sul libero arbitrio e su ciò che ci rende umani o su ciò che non ci rende umani c'è per esempio il personaggio quello che non cresce mai che non riesce a sentirsi umana come gli altri perché è sempre una bambina non prova l'esperienza della vita adulta c'è Fastos che lo vediamo in due scene in sequenza ma nonostante questo non c'è una una grossa discrepanza sembra tutto molto fluido come ho detto all'inizio in una scena è a Hiroshima che ha rinunciato all'umanità perché dice l'umanità è una merda guarda cosa cazzo hanno fatto e poi lo vediamo invece nel tempo presente immerso nella famiglia che dice io ricredo di nuovo nell'umanità grazie all'amore che mi dà alla mia famiglia grazie a questa la mia ritrovata umanità l'ho ritrovata grazie alla mia famiglia e quindi io credo di nuovo nell'umanità e quindi vediamo fondamentalmente un angelo che è sceso a livello umano e grazie all'umanità che sta assaporando ha rispetto per la vita e vuole salvare gli esseri umani e non compiere la missione che poi come si è scoperto appunto non corrisponde alla salvaguardia dell'umanità ma è più una cosa alla matrix cioè dove noi esseri umani la nostra energia di esseri umani fa da batteria fa da alimentatore alla nascita di un nuovo celestiale è anche fighissimo sapere come nascono i celestiali ci sono anche dei vaghissimi riferimenti a Ego il pianeta vivente che è un celestiale e anche lui piantava i semi nei vari pianeti però appunto lui è Ego quindi è molto egocentrico egoista il fatto che lui piantava i suoi semi ovunque era perché si sentiva solo e voleva altri pianeti altri celestiali come lui mentre qua vediamo che l'opera del celestiale sembra proprio una cosa più epica e più regolare perché parla proprio della nascita di un celestiale ogni miliardo di anni mentre Ego sembrava proprio che andava a farsi i cazzi suoi a piantare semi ovunque quindi non c'è una cattiveria dal punto di vista di bene e male per quello che fa il celestiale però si vede proprio come per il celestiale noi siamo neanche formiche siamo virus siamo batteri siamo proprio una roba siamo delle spore che in qualche modo alimentano la nascita del celestiale c'è questo livello di scala di grandezza che non possiamo nemmeno pensare che il celestiale sia il cattivo per questa ragione qua tant'è che il cattivo da combattere non è altro che uno di questi angeli io li chiamo ormai angeli nella parte spoiler questo Icaris che vuole appunto essere a tutti i costi rispettoso della sua missione anche perché se ci pensate Icaris lo sa da molto più tempo ha avuto molto più tempo per elaborare che la sua missione era una bugia e la sua vera missione è un'altra e quindi è tornato sul suo sentiero e lui è diventato un fanatico c'è anche questa fantastica scena tra Salma Hayek e Icaris scusate tra Ijac e Icaris dove fondamentalmente io ci ho visto una metafora del fanatismo una mamma che ha cresciuto il proprio figlio secondo dei dettami religiosi anche per il bene e poi si è pentita anche lei stessa perché vede come questi dettami hanno un'altra medaglia quasi negativa quasi che va a scontrarsi con l'umanità che si rende conto di aver cresciuto un figlio che è diventato un fondamentalista che è diventato integerrimo al punto che uccide fondamentalmente quella che si può definire la propria madre la propria madre adottiva perché se la madre è solo il celestiale comunque Ijac era una sorta di madre adottiva con lei che li ha cresciuti che li ha guidati e lui è diventato talmente fanatico di questo suo credo cioè della sua missione che ha ucciso persino il suo stesso sangue ed era disposto ad uccidere tutti i suoi fratelli questo per dire la pericolosità del fanatismo un altro aspetto che ci ho trovato è il fatto che questo film va a coprire tutto il resto del mondo a livello proprio di rappresentazione culturale laddove tutti i film sui supereroi sono ambientati in America e anche quando girano per il mondo hanno un occhio prettamente americano qua invece vanno proprio a colpire tutto quello che è la cultura asiatica e dico asiatica in senso molto ampio del termine che va dal Medio Oriente appunto dalla Mesopotamia che va dal Medio Oriente fino all'estrema Asia tant'è che appunto ogni personaggio rappresenta anche un'etnia diversa e tutto questo non è assolutamente fuori luogo proprio perché il Celestiale appunto ha creato fondamentalmente questi angeli e ci sta che ogni angelo rappresenti un'etnia diversa è proprio come se ognuno di loro sia un archetipo umano che ha poi contribuito a far progredire le varie etnie dell'uomo nel mondo quindi c'è Angelina Jolie che è dipinta come questa bambolona bionda tra l'altro vabbè l'avrei fatta un po' più sul greco andante essendo Tena però vabbè c'è il personaggio asiatico c'è il personaggio di colore c'è il personaggio vabbè poi ovviamente c'è la bambina che ha questo aspetto molto molto elfico un po' la Peter Pan la loro presenza è come se incarnasse proprio un tipo una tipologia di umanità forse oserei dire proprio esagero avrei fatto meno personaggi se non fosse stato tratto da un'opera letteraria cioè se non fosse stato tratto da un fumetto dove questi personaggi c'erano ma fosse stata un'opera originale magari avrei messo un paio di personaggi in meno per rendere il tutto un filino più fluido perché un paio di personaggi davvero vengono usati poco come la ragazza muta si è messa a leggere nell'astronave per mille anni è un peccato magari l'avrei sfruttata di più però stiamo già parlando di un film di due ore e venti in questo film super epico io ci ho visto un combattimento interno tra libero arbitrio tra fede fede cieca e umanità tra tutto ciò che è la rappresentazione culturale di tutto il mondo quindi è proprio tutto il mondo sia a livello geografico che a livello storico ecco tutta questa epicità mi ha pervaso però ecco bisogna anche essere un attimino pronti a quello che si va a vedere se pensate di sedervi mettere il culo sulla poltrona del cinema e guardarvi un Avengers non dico che rimarrete delusi ma rimarrete talmente travolti che l'esperienza potrebbe lasciarvi un attimo storditi non confondete questo con la delusione è un'altra cosa grazie ancora per avermi seguito anche in questa parte un po' spoiler ho fatto una chiacchierata un po' a caldo ovviamente perché tanto recensioni più impegnate più di persone più esperte le trovate ovunque quindi questa è la mia personale chiacchierata fatemi sapere voi cosa ne pensate io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti